Leonidas DG, ore 10, Reims, Francia. Leonidas L, come l'avevo detto io, che come passavi i confini dell'Italia facevi le figurette. E ora voglio sentire cosa dite stamani, dopo l'ennesima sconfitta contro Cipro, Marta, Pontacappiano, con chi avete perso. Ne come niente scuse, siete una squadretta e dà come datevi all'Ippica, giuventini, giuventino, non da sillare, l'importante è partecipare. L'Europa è un'altra cosa, l'Europa la giro io, la giro i milanisti, col colpiglio e la possibilità di vincere. Voi state a casa, è inutile che comprate un tom tom e le riviste per fare turisti a giro, ma evitate gli stati se dovete fare queste figure. Ciao ladri!